Scuole superiori, è ripartita la didattica in presenza al 50%. Il comune prepara i tamponi negli istituti, giovedì si comincia. A settembre Pesaro ospita i campionati europei di ginnastica presentato in logo. La VL travolge Cantù e sogna la VIS invece con la PIC, quarto K.O. di fila. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è lunedì 25 gennaio e in apertura parliamo della mattinata che oggi ha visto il ripristino della didattica in presenza al 50% in tutte le scuole marchigiane. Un provvedimento fortemente voluto dall'amministrazione della Regione Marche che segna un graduale ritorno alla normalità. E allora vediamo tutto in questo primo servizio di Daniele Sacchi. È una mattinata di pioggia a accompagnare il ritorno in aula di circa 8.000 studenti delle scuole superiori della città di Pesaro. Un ritorno con la pioggia proprio a marcare la differenza tra lo starsene comodi a casa davanti, un monitor, oppure uscire di casa, andare a scuola come è sempre stato e magari affrontando anche le intemperie invernali. Dunque questo lunedì 25 gennaio è ricominciata la scuola con la didattica in presenza al 50%, un provvedimento atteso per tre mesi che si spera diventi il primo passo verso un graduale ritorno alla normalità. Sotto osservazione particolare sono stati anche gli autobus, il trasporto scolastico che è chiamato a tenersi al rispetto del distanziamento sociale, 50% di capienza anche dei bus, autobus che a Adriabus ha aumentato di 22 unità portando circa a 300 i veicoli del parco mezzi in questa provincia. Si torna in classe un provvedimento applaudito dai presidi degli istituti superiori. Oggi è grande emozione, per me devo essere sincero a vedere i ragazzi di nuovo in classe. Ovviamente grande emozione e anche grande preoccupazione, siamo ancora in mezzo alla pandemia, non ne siamo fuori, dobbiamo alzare la guardia, stare attenti e fare in modo che ci siano pochissimi rischi di contagio all'interno della scuola. Per quello che riguarda la vostra organizzazione è cambiato qualcosa nel preparare questo rientro? Non è cambiato nulla per quanto riguarda il liceo scientifico, noi dall'inizio dell'anno abbiamo diviso le classi in due sottogruppi, in questo momento c'è il primo sottogruppo a scuola, in presenza e l'altro sottogruppo che segue a distanza. La prossima settimana si alterneranno, è una scelta fatta da molte scuole, altre hanno scelto invece situazioni diverse che comunque riducono il rischio complessivo all'interno dell'istituto. Oggi ci sono ragazzi che rivarcano per la prima volta la soglia di questo istituto dalla fine di ottobre e quindi ho detto siete emozionati e dicevo stamattina. Ecco, noi abbiamo optato per la stragrande maggioranza delle classi, adesso ce ne sono ancora alcune che hanno deciso di entrare al 50%, ma non sappiamo se poi nel giro di questa settimana le cose cambieranno, abbiamo optato comunque per far rientrare il 50% delle classi a classe intera. Ecco, questo perché abbiamo la possibilità di utilizzare anche spazi più grandi per le classi più numerose e quindi ricollocarli in ambienti più idonei e soprattutto perché sicuramente la didattica ne ha un vantaggio perché avere metà classe a casa e metà classe in presenza i docenti ecco, sanno bene e sono loro che si sono espressi in questi termini, non è la stessa cosa. Certo, dobbiamo salvaguardare il discorso della salute e quindi del rischio di trasmissione del contagio ed è per questo motivo che abbiamo ripristinato appunto questa possibilità di utilizzare tutti gli spazi della nostra scuola e soprattutto un richiamo di nuovo, soprattutto a quei ragazzi che appunto non sono più venuti a scuola dal mese di ottobre, un richiamo al rispetto di quelle che sono le norme, naturalmente, di distanziamento, tenuta della mascherina, di igienizzazione delle mani. Ecco, ho detto ragazzi, mi raccomando, se vogliamo rimanere a scuola, ecco, questo è davvero fondamentale. Tornare a scuola è tornarci con la massima sicurezza sanitaria. In concomitanza al rientro sui banchi si sta infatti organizzando lo screening di massa che il Comune di Pesaro ha presentato dal 28 gennaio negli istituti superiori della città di Pesaro. Un'operazione finora accompagnata da diverse polemiche politiche, come ricordiamo appunto in questo prossimo servizio. Dopo giornate di diatribe politiche consumate fra Comune e Regione, si passa concretamente alla fase operativa. Il Comune di Pesaro va dritto per la sua strada ed ormai ha gli ultimi dettagli organizzativi per apparecchiare in autonomia lo screening scuole sicure. Il 28-29 gennaio e il 2-3 febbraio saranno quattro giornate in quattro istituti superiori della città di Pesaro dedicati ai tamponi gratuiti e su base volontaria, alla quale verranno sottoposti potenzialmente 8.500 studenti e oltre un migliaio di addetti al personale scolastico. Mila Della Dora, assessore comunale con delega alla salute, sta coordinando gli ultimi dettagli organizzativi di un'operazione che non ha precedenti. Partiremo il 28, quattro saranno i siti individuati, il campus scolastico, il Santa Marta, il Cecchi e il Mengaroni. Lo screening parte il 28 per i ragazzi che rientreranno la prima settimana, il 25 gennaio, e nella seconda settimana abbiamo ipotizzato le date del 2-3 febbraio per i ragazzi, per l'altro 50% che rientrerà la settimana successiva. Sono tanti gli operatori volontari che abbiamo trovato, da medici, infermieri, quindi una grande squadra che coordinerà il tutto. Ovviamente, come avete già sentito, il Comune è promotore di questa iniziativa, ma non sarà il titolare sanitario dei dati, quindi nessuna preoccupazione in questo senso. Faremo firmare un modulo di consenso da parte dei genitori, l'adesione sarà su base volontaria, quindi il ragazzo minorenne avrà anche l'autorizzazione del genitore, invece nel caso di maggiorenne comunque compilerà un'autodichiarazione lui. E si parte nonostante il Comune avesse auspicato che l'iniziativa fosse abbracciata dalla Regione Marche. È stato infatti un weekend di botte risposta fra il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Il primo cittadino ha accusato la giunta regionale di non aver accolto una proposta semplicemente perché è arrivata dal centro-sinistra. Saltamartini ha invece intimato di non accampare strumentalizzazioni politiche di fronte ad un regolamento sanitario in capo alla Regione che non ammette il faidate. Saremo costretti a fare da soli, faremo da soli con le nostre forze, con le nostre risorse, sostituendoci alla Regione. È un'iniziativa che doveva fare la Regione, la poteva fare. La Regione, grazie alla bella iniziativa dello screening gratuito, ha almeno 600.000 tamponi in questo momento inutilizzati e le Marche potevano diventare la Regione più sicura per il rientro scolastico perché questi tamponi potevano essere effettuati anche periodicamente, dando davvero maggiori garanzie della sicurezza all'interno della scuola. Non lo si è voluto fare, probabilmente perché la proposta arrivava da una parte politica non uguale a quella della giunta regionale. Questo è già un grande errore, perché la campagna elettorale è finita, bisogna lavorare insieme. Dall'altra, poi noi abbiamo proposto di mettere a disposizione il personale. Fino all'ultimo c'è stato detto che i tamponi ci sarebbero stati dati e poi ci si è inventati una motivazione burocratica, diciamo che non sta nei piedi né in terra, e ci è stato detto di no. Noi andremo avanti comunque, poi abbiamo scoperto che ad altre realtà i tamponi sono stati dati, quindi davvero una brutta vicenda. Spero che la Regione capisca di aver fatto un errore, che torni sui suoi passi e che capisca che questi interventi li deve fare la Regione e li deve fare in tutte le Marche. I tamponi li abbiamo acquistati attraverso le farmacie comunali e sono fra l'altro gli stessi tamponi che sta usando l'Emilia-Romagna per lo screening. Quindi, una cosa paradossale, abbiamo dovuto spendere 36 mila euro nei tamponi mentre ce ne sono 600 mila della Regione chiusi in un magazzino. Solo questo dà dimostrazione di come si dovrebbe collaborare, perché, ripeto, tra cinque anni torneremo a fare campagna elettorale, ma per cinque anni dobbiamo lavorare insieme nell'interesse dei pesaresi e dei marchigiani. Così si lavora, questo è lo spirito con il quale io mi sono mosso, mi dispiace anche perché ho un buon rapporto con l'assessore alla sanità, ma poi alla fine, insomma, in politica contano i fatti, le parole contano poco. Il fatto è che siamo costretti a farlo da soli ed è grave perché stiamo parlando di sicurezza sanitaria e stiamo parlando di scuola, dei nostri ragazzi, quindi davvero un attesamento incomprensibile. E continuiamo a parlare di argomenti che riguardano appunto il coronavirus. Sono confortanti le notizie per l'ospedale San Salvatore di Pesaro che nel weekend ha attivato 17 nuovi posti letto di terapia intensiva che diminuiranno lo stress ospedaliero regionale. Vediamo. La lotta al covid e non solo quella ha ora 17 alleati in più. Tanti i posti letto in terapia intensiva che questo weekend sono stati aggiunti all'ospedale San Salvatore nella Palazzina F. Le Marche trovano dunque a Pesaro una valvola di sfogo per allentare ulteriormente lo stress ospedaliero regionale e Pesaro si avvicina a permettere il rientro a regime di cardiologia che da marzo era stata trasferita a Fano. Marche Nord è il primo ospedale a recepire il decreto Arcuri che incrementa ora a 237 i posti di terapia intensiva a disposizione del servizio sanitario regionale. Oltre a migliorare l'assistenza ai pazienti, ora si può anche diminuire il parametro con cui si calcola l'indice RT per la classificazione delle regioni nelle zone gialla, arancione o rossa. A tal proposito, l'ultima settimana ha registrato un positivo calo dell'8% dei ricoveri. Per quanto riguarda invece i nuovi contagi, come ogni lunedì è più bassa la cifra di tamponi processati, 2.976 di cui 1.862 nel percorso nuove diagnosi. I positivi riscontrati sono 200, di cui appena 28 nella provincia di Pesaro Urbino. 9 i deceduti nella giornata di ieri per una regione Marche che, da inizio pandemia, ha pianto 1.890 morti contagiati dal Covid-19. Ed ora è il momento di passare alla cronaca perché la polizia di Fano sta indagando sul ritrovamento senza vita di un uomo di 48 anni deceduto ieri nella propria abitazione di Ronco Sambaccio. Si attende l'autopsia che verifichi le cause del decesso. A cercarlo era stata l'ex compagna che da giorni non riusciva a mettersi in contatto e ha allertato i vigili del fuoco che hanno forzato la porta di casa dell'uomo trovandolo esanime nel proprio letto. Si è spento a 92 anni Carlo Alberto Di Guilmi, presidente onorario dell'Associazione Polizia di Stato di Pesaro. Di Guilmi è stato parte integrante della storia della questura di Pesaro dove per anni ha prestato servizio come responsabile dell'ufficio Passaporti. Un altro lutto ha invece colpito la comunità religiosa di Cogli al Metauro. È morto ieri all'età di 72 anni Don Giuseppe Monaco, parroco della Chiesa di Santa Croce a Calcinelli, a darne notizia e la Diocesi di Fano. Sono 705 le persone che sono state controllate sulle strade della provincia sabato e domenica per il rispetto dei divieti di spostamento e delle norme anti-covid. Le forze dell'ordine coordinate dalla Prefettura hanno elevato 41 sanzioni controllate anche 435 attività commerciali dove sono stati riscontrati tre illeciti che hanno comportato la chiusura temporanea delle attività stesse. Confcommercio e CNA Pesaro Urbino attraverso comunicati stampa hanno espresso disapprovazione al taglio penalizzante deciso da Trenitalia che ha improvvisamente soppresso i treni Frecciarossa da Ancona verso Milano e viceversa. Aboliti sia quelli del mattino che quelli del pomeriggio. Sono stati invece spostati gli orari dei Frecciabianca per Roma provvedimenti che secondo le associazioni di categoria non fanno altro che aumentare l'isolamento e gap infrastrutturale della nostra provincia. Simone Ricciati è il nuovo presidente del comitato regionale Marche WISP l'ex presidente WISP Pesaro Urbino succede a Armando Stopponi che ha guidato l'ente per otto anni. A decretare il passaggio di testimone è stato il congresso di sabato 23 gennaio che ha visto la partecipazione dei legati collegati tramite la piattaforma Google Meet. Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni quindi vi ringraziamo sempre per mandarci foto e video a questo numero di Whatsapp. Questa sera vi mostriamo un video che ci manda un nostro telespettatore che mostra l'intervento dei Vigili del Fuoco di Pesaro che hanno sedato un incendio a una canna fumaria di un'abitazione in strada Pantano-Castagni. Come sempre appunto intanto state vedendo ancora queste immagini e ringraziamo l'autore di questo video e vi ringraziamo costantemente appunto per tutti questi messaggi che ci arrivano al nostro numero di Whatsapp. E dopo tanti eventi cancellati lo scorso anno in modo particolare nella città di Pesaro ora la città di Rossini torna ad ospitarne uno di grandi dimensioni anzi di dimensioni europee. Si tratta dei campionati di ginnastica che si terranno in città fra settembre e ottobre. Oggi in comune è stato presentato il logo ufficiale dell'evento realizzato dal liceo artistico Mengaroni. Pesaro 2021 luogo e data che identificano il ritorno in città di un evento sportivo di dimensione internazionale quale saranno i prossimi campionati europei di ginnastica. Tre settimane dal 20 settembre al 10 ottobre per tre eventi sportivi gli europei di ginnastica aerobica e gli europei junior e senior di ginnastica acrobatica. Dopo mesi di restrizioni e cancellazione di eventi Pesaro prova a rilanciare un messaggio di speranza attraverso lo sport in un evento organizzato da Esa Tour Group che ospiterà circa 700 atleti accompagnatori. La conquista di una vittoria ad una candidatura abbastanza sofferta visto che abbiamo battuto concorrenti molto prestigiose come capitali europee grazie alla location del rinnovato palasporto di Viale dei Partigiani che ospiterà la manifestazione. Pesaro ha vinto perché la centralità dell'arena consente agli atleti e alle delegazioni spostamenti molto rapidi e molto facili. Diciamo che in questo periodo sognare di ospitare una manifestazione del genere che come sapete come hanno già detto porterà Pesaro tra i 600 e i 700 atleti ogni settimana è una cosa che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione perché in un momento diciamo in un momento ormai è più di un anno che il settore del turismo è completamente bloccato e ha lavorato veramente poco anche la scorsa estate quindi questa è una speranza per ridare fiato energia e diciamo anche carburante ad un intero comparto veramente in affanno. Nella Sala Rossa del Comune di Pesaro è stato presentato il logo realizzato dal liceo artistico Mengaroni e applaudito dallo stesso presidente della Federazione Ginnastica d'Italia Gerardo Tecchi e dall'assessore allo sport Mila Della Dora che sarà presidente del comitato organizzatore dei campionati europei. Matteo Ricci sindaco di Pesaro ha testimoniato anche la soddisfazione di poter finalmente rivedere il vecchio palasport di Viale dei Partigiani riaprirsi in veste ristrutturata per un evento sportivo. Noi non ci stiamo fermando dal punto di vista degli investimenti e dalla programmazione del futuro ovviamente ci sono ancora tanti incognite però speriamo davvero che per l'estate si possano ospitare grandi manifestazioni magari con alcuni accorgimenti. Per questi i lavori al vecchio palazzetto dello sport sono andando avanti ci sono tutti i presupposti così ci dicono l'azienda che sta facendo i lavori l'assessore Belloni i tecnici di poterlo riaprire per il Rossini Opera Festival che si svolgerà ad agosto e per poi i campionati europei di ginnastica aerobica quindi siamo fiduciosi e ovviamente i lavori vanno avanti sperando davvero che per quel momento ci saremo liberati di questo maledetto Covid o almeno lo avremo ridimensionato pesantemente. Il logo è stato realizzato dalle studentesse del liceo artistico Mengaroni Miriam Giugini e Leonora Massa coordinate dalla professoressa Isabella Galeazzi Dietro a tanta sintesi tanta bellezza tanta lettura chiara tanta funzionalità di uso c'è altrettanto lavoro però per noi è stato un piacere farlo e i ragazzi hanno lavorato in gruppo proprio perché avevamo dei tempi un po' stretti ma alle volte il gruppo funziona quando c'è critica quando c'è crescita personale e il gruppo più è armonioso più ha quelle condizioni meglio viene il lavoro di gruppo operativo. E come ogni lunedì spazio in chiusura dedicato allo sport e alle notizie sportive è stato uno splendido weekend per la VL per l'Ital Service e per la Megabox Vallefoglia pessimo invece c'è per la Vispesaro è stata una Carpegna prosciutto basket pesaro travolgente alla Vitri Frigorena la VL batte 107 a 83 Cantù superando per la prima volta quota 100 punti e attestandosi al sesto posto in classifica MVP Carlos Delfino con 19 punti gli stessi segnati da un ottimo Tyler Kane e continua pure la crescita di Drell ho fatto complimenti per una vittoria importante una partita giocata bene ma nello stesso tempo dobbiamo dire ogni giorno sfidare se stessi sai sfidare se stessi è la cosa più importante se vogliamo essere domani più bravi sai questo è fondamentale il nostro lavoro non possiamo essere soddisfatti perché in primo tempo abbiamo subito 11 rimbalzi in attacco da dove sono riusciti di segnare 15 punti questo non va bene sai e l'altra cosa non possiamo essere soddisfatti fino in fondo se abbiamo subito 31 punti nell'ultimo quarto ci vuole una mentalità giusta una mentalità una mentalità giocare 40 minuti 40 minuti concentrati connessi aggressivi è così 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 si fanno progressi se vogliamo se vogliamo ogni giorno essere più bravi gioisce il basket e invece coi nervi a fior di pelle il calcio pesarese quarta sconfitta consecutiva per la Vispesero che cade anche a Legnago finisce 2 a 1 il match salvezza con Ettore Marchi che sbaglia il rigore del possibile 1 a 1 e poi segna quello rivelato inutile dopo che Legnago era già avanti 2 a 0 dopo un'ora di gioco Visse contestata dai tifosi al ritorno a Pesero in squadra è scattato il silenzio stampa ha parlato invece Flavio Destro allenatore dell'Alma Juventus Fano che al Mancini ha ottenuto un confortante pareggio 0 a 0 con la corazzata Perugia è una partita che i ragazzi sono stati veramente bravi vorrei elogiarli tutti perché quanto una grande squadra abbiamo sì concesso una o due palle gol ma ne abbiamo avute anche noi quindi c'è soddisfazione perché la prestazione c'è stata anche questa volta Nelle Calcio 5 l'Ital Service demolisce il Todis Lido di Ostia prima di fermarsi per la pausa della Nazionale Al Palladino Pizza finisce con un perentorio 8 a 0 con l'Ital Service che segna 4 gol per tempo Salas Cuzzolino Borruto e Tony Dandel fissano il 4 a 0 di prima frazione Onorio Marcellinio e la doppietta di Cuzzolino completano la festa così come fa festa la Megabox nel Volley a Vallefoglia le ragazze di Bonafede battono 3 a 0 le friulane del CDA Talmassons chiudendo in vetta la regular season e come tutti i lunedì è ricca la programmazione su Rossini TV partendo da questo primo appuntamento alle ore 21.15 con Palcoscenico Marche questo programma che ci accompagna tutti i lunedì sera e ci permette di vedere in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio i meravigliosi luoghi del nostro territorio questa sera vi mostriamo il Palazzo del Monte Monbaroccio a seguire invece raccontiamo la storia che è accaduta nel nostro territorio a Pesaro dal 1935 al 1945 in questo bellissimo documentario di Gastone Mazzanti le stelle continueranno a brillare come sempre potete richiedere la vostra copia e cioè il cofanetto con tutte le puntate chiamandoci appunto qui in redazione quindi non perdetevi l'appuntamento di questa sera alle 21.30 vi ricordiamo anche la nostra rassegna stampa domani sarò io con voi in diretta alle 7.20 prenderemo insieme un caffè e leggeremo i titoli dei quotidiani locali e allora grazie come sempre per essere stati anche questa sera in nostra compagnia saluto anche tutto il popolo che ci sta guardando sui nostri social e sul nostro sito vi do appuntamento a domani alle 7.20 appunto con la rassegna stampa buona serata grazie grazie grazie